C'è un settore in grande espansione a livello globale ed è quello della sostenibilità d'impresa, conosciuto anche con l'acronimo ESG, Environmental, Social and Governance. Sono i tre fattori di misurazione della sostenibilità dell'azienda, che riguarda l'impatto su ambiente e territorio, le iniziative a beneficio di persone e stakeholder e la governance dell'azienda. A partire dal 2024, sempre più imprese italiane saranno obbligate a redigere i propri report di sostenibilità. Ma per un'azienda investire in sostenibilità conviene? Altro che, le aziende che lo fanno risultano più performanti aumentando i propri ricavi, attirano gli investimenti delle banche e diventano più attraenti per le giovani generazioni. Proprio da qui nasce il progetto ESG-CGN, volto a diffondere una cultura della sostenibilità ai professionisti, tramite informazioni, strumenti pratici e affiancamenti mirati. Partendo dalla nostra esperienza decennale in politiche di sostenibilità, come società Benefit abbiamo deciso di supportare i nostri associati su materie che ormai sono cruciali nel mondo del lavoro. Assieme a un team di esperti ESG, offriamo dei servizi che includono la stesura dei piani di sostenibilità, la misurazione degli impatti, l'analisi dei dati e le modalità di rendicontazione. Se ti serve supporto in questo settore, vai sul sito cgn.it e quindi sulla pagina Consulenza ESG. Compila il form, indicando il tipo di servizio di cui hai bisogno. Siamo pronti ad accompagnarti nel mondo della sostenibilità. Il futuro è già qui, si chiama ESG.